Si parla del piano demaniale marittimo, quello che sta suscitando diverse polemiche. Si parla soprattutto di quella che sarà la superficie che occuperà. E' pur vero che il piano demaniale regionale prevede una norma, ha in sé una norma che dice che le superfici oggi copribili con volume e tettoie sono aumentate del 30%. Però questa è un'indicazione di carattere generale che va trasferita sul territorio. Nel caso di specie per quanto riguarda il comune di Pescara, questa norma interamente recepita nel piano demaniale comunale produrrà un aumento di volumi e tettoie nella misura dello 0,51%. Quindi nessuno sfregio, nessuna cementificazione di questo 30% che nei fatti si traduce nello 0,5%. Dall'altra ci sono gli albergatori che sono preoccupati perché dicono i bengalov in qualche modo possono danneggiare il loro mercato. Una città che cresce, che si sviluppa, non deve aver timore neanche di questa possibilità inserita nel piano demaniale comunale, e cioè quello di un piccolo, di destinare una piccola parte prevista nel 10% nelle attuali e quindi non nuove volumetrie, nelle attuali volumetrie da destinare a ricettività alberghiera. Quando verrà votata l'approvazione del piano demaniale? Questo è compito del Consiglio Comunale. Adesso abbiamo finito, o almeno il Presidente della Commissione, sta terminando gli aspetti relativi al confronto con le parti sociali. Appena terminato questo confronto si andrà in Consiglio Comunale con l'adozione e poi successiva approvazione. Si dice che non verranno più smantellate a fine stagione balneare le strutture mobili. Falso. Questa norma è contenuta nel piano in una forma diversa rispetto alla precedente, ma obbliga gli stabilimenti balneari a rimuovere tutte le strutture mobili a fine stagione balneare. Terzo aspetto, non meno importante, prima di procedere all'installazione degli impianti mobili, degli ombrelloni e quant'altro, bisogna presentare un progetto che avrà necessità di essere munito anche della valutazione paesaggistica.